In manette un imprenditore, più di 10 milioni di euro sottratte al fisco. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di San Giorgio a Cremano. L'uomo gestiva i suoi affari nel settore della commercializzazione di prodotti energetici. I finanzieri l'hanno ritenuto responsabile di una maxievasione dell'IVA. Contestualmente le fiamme gialle stanno procedendo al sequestro finalizzato alla confisca di beni, anche di lusso, del valore di circa 10 milioni di euro.